salve sono elena caselli docente universitario di lingua e cultura italiana e vorrei invitarvi al mio webinar dal titolo insegnare la grammatica italiana in contesto comunicativo il webinar si terrà il giorno 28 febbraio alle ore 18 eastern time durante il webinar potremo esaminare il nostro corrente approccio didattico in esplorare la possibilità di insegnare la grammatica italiana all'interno di attività comunicative come elemento perfettamente integrato in esse e non separato queste attività comunicative danno ai nostri studenti l'opportunità di immergersi nell'uso pratico della lingua acquisendo nelle strutture correttamente quindi porterò degli esempi di tale attività e ne discuteremo insieme vi aspetto ciao